Un carissimo saluto a tutti quanti, oggi ragazzi parliamo di una delle novità che probabilmente non sarà topica o non sarà in cima alla vostra attenzione, ma sono più che certo appena questa funzionalità verrà applicata, esisterà, sicuramente in tanti curiosi io in cima a questa lista andrò sicuramente a buttarmici e provarla. Allora questa è la parte di notepad co-writer che è la possibilità di andare a dettare utilizzando il notepad una sorta di, adesso andiamo a vederlo ovviamente un po' allargato, questa è una specie di loop che c'era direttamente su Twitter, vedete qua, co-writer di fatto è una specie di copilot ma in versione ridotta, cioè con lo scopo unicamente di andare a sfruttare la dettatura e farla in modo assolutamente avanzato, quindi potremo assolutamente scrivere testi dettando e appunto tutta una serie di funzionalità che come vi ho spiegato, come vi ho raccontato anche del futuro che riguarda copilot nello specifico nelle funzionalità di Office si potrà sfruttare cento volte meglio, nel senso che andrà ad analizzare determinati dati, cioè non solo dettare, che per esempio io stesso che avendo qualche anno negli anni 90 ero super fulgorato dall'idea di dettare del testo e quindi per esempio quel software che cito ogni tanto che è Dragon Naturally Speaking, che credo esista ancora, non lo so, però insomma costava parecchio ma soprattutto aveva bisogno di tempo per essere diciamo così meccanizzato dal sistema stesso, bello ma comunque con grossi limiti, anche e soprattutto legati all'hardware del tempo, era una cosa interessante, tra l'altro in alcuni film questa cosa veniva sfruttata e io ero super affascinato da questa cosa, ovviamente nei film funzionava sempre in modo fighissimo, ma in realtà non era assolutamente così, ma una delle cose che sono state forse una delle più grandi delusioni mie personali di questo tipo di sistema, quando ad esempio l'ho provato con Apple o quando a volte lo sfrutto con Siri direttamente dettando i messaggi, è che se dovete dettare piccole cose di testo, ok funziona, ma nel momento in cui voi dovete ad esempio dettare lunghi testi, in cui, che ne so, dovete dettare, o sparo, una mail, oppure io che ogni tanto cerco di scrivere qualcosa, eccetera, vi accorgete che l'operazione di dettare vi toglie concentrazione al pensiero che dovete formulare nella scrittura, io, ripeto, non posso generalizzare, io parlo di me, di conseguenza nel momento in cui io sto con la bocca chiusa e sono davanti a una tastiera riesco a scrivere molto velocemente e riesco a fare la cosa veramente in tempo, proprio, cioè, penso alla cosa, la scrivo. Nel momento in cui io devo dettare, può sembrare che ci metta meno, perché la cosa ovviamente voi la pronunciate, track, compare a schermo, ma nello stesso tempo poi mi devo soffermare, cioè, o voi avete un pensiero perfettamente formulato, in toto, completo, e sapete esattamente cosa volete dire dall'inizio alla fine, altrimenti, e ripeto, questa cosa la potete fare con una mail, con un messaggio di testo, quello che ne avete voglia voi, ma nel momento in cui dovete proprio scrivere, e questo parlo, per esempio, di scrittura, io faccio recensioni, mi diletto di scrivere libri che poi non usciranno mai, più che altro perché non li finisco mai, e questa cosa mi piaceva dal punto di vista proprio della velocità di scrittura, però poi nella complessità del testo la cosa non funziona, perché bisogna scrivere questa frase, poi uno la ripronuncia, se la rilegge, magari vuole scegliere delle parole completamente diverse, ma c'è un tipo di sistema per il quale a me, personalmente, questa cosa non sono... non è che... è una questione di formamentis, quindi, come mia madre, ad esempio, che ex insegnante, ex... cioè, nel senso, anzi, non ex, persona che carta e penna deve fare, lei dice, no, io la brutta la devo sempre comunque scrivere a biro su un foglio, poi, al massimo, la digiterò al computer, ma non riesco a formulare pensieri davanti ad uno schermo. Questa cosa che lei dice, per esempio, è una cosa che io ho avuto nei primi anni, come, per esempio, l'iter, generalmente, di chi comunque lavora al computer è... se tu hai un foglio di carta ti vengono le idee, ma perché? Perché alle elementari, alle medie, alle superiori siamo stati abituati in questo modo. Io, quando capisco il suo punto di vista, sono davanti ad uno schermo, una volta non riuscivo a pensare a nulla, è come lei dovevo prendere una bozza, magari, su un foglio di carta. Poi, col tempo, a furia di farlo, farlo, strafarlo, eccetera, eccetera, non è esattamente l'opposto, cioè, un conto è prendere due appunti veloci e allora pezzo di carta non esiste il meglio. Ma nel momento in cui devo andare invece a scrivere, mi metto lì, mi concentro, track, faccio tutto. In più, nei primi anni 90, ovviamente, che avevo appena arrivato il computer a casa, guardavo quello che dovevo scrivere, cioè, i tasti della tastiera li dovevo guardare. Ovviamente, poi, la velocità aumenta al punto che, probabilmente, la dettatura, che, ovviamente, richiede un pensiero e la scrittura a mano, oggi, vi dico, francamente, vado avanti ancora con la tastiera, cioè, non ho un ottenimento di beneficio di velocità. È ovvio che, come abbiamo già detto cento volte, che esista questo sistema per me è top, semplicemente perché, che ne so, aiuta persone con disabilità. Io, ogni singolo video in cui parlo di queste cose, per me conta sempre, cento per cento, non soltanto l'evoluzione di una tecnologia, ma perché qualunque miglioramento ci deve essere, a livello di umanità, che la tecnologia, per me, deve essere anche questo. C'è un miglioramento di qualcosa, a me è semplicemente la cosa più veloce, che, comunque, già è un miglioramento, che, però, può avere lati positivi o negativi. Ma noi dobbiamo sempre partire dal fatto che, se io invento uno strumento, deve, prima di tutto, aiutare le persone, qualunque tipo di persona, a livello, diciamo, con maggiori difficoltà, e poi tutte le altre. Così deve evolvere il pensiero, deve evolvere, deve evolvere la tecnologia, devono evolvere le costruzioni, devono evolvere le case, e qualunque cosa deve partire sempre, uso un termine orribile, dagli ultimi, deve sempre partire dalle persone con maggiore difficoltà, e dopo tutti gli altri. E questo tipo di sistemi aiutano a normalizzare la vita di persone che, ovviamente, fanno fatica. Quando io ho sempre parlato del fatto che il Mac sia controllabile 100% da una vita, da un sistema con comando vocale, e io ho visto persone che non hanno proprio modo di fare nulla e lavorare 100% come persone, appunto, normodotate, è una cosa che a me riempie di gioia dicendo questa è l'umanità che piace a me, cioè è l'umanità che porta tutti quanti allo stesso livello e tutti quanti ad una piacevolezza, perché non è soltanto un concetto di lavorare, è un concetto anche di poter gestire una vita. Cioè, per esempio, non so se avete mai visto il sistema di email per ciechi che addirittura crea il braille alzando, quindi, dei tasti che permette di... a parte che può essere lettura direttamente delle mail, oggi c'è questo tipo di sistema, ovviamente, ma addirittura esiste il sistema di braille che sotto le dita delle persone riescono a comporre e sentire quello che, che ne so, di un libro piuttosto che di una mail, eccetera, eccetera. Cioè, queste cose qua sono incredibili, cioè, sono fantastiche, perché comunque modifica i sensi delle persone permettendo a tutti di essere allo stesso livello. Cioè, che è una cosa che per me, ripeto, è la cosa più eccitante di quella che può essere la tecnologia. Io ho sempre detto, ovviamente, ognuno di voi la vita, il lavoro, le cose, però insegnare agli altri, insegnare è una cosa meravigliosa. Forse me l'ha passato mia madre questo tipo di concetto, perché comunque, ma in modo indiretto, non è che mi ha mai detto devi insegnare, però vedevo attraverso di lei il concetto di passare nozioni alle persone è un modo di far evolvere tutti quanti in un modo incredibile e queste tecnologie aiutano tutti quanti a migliorarci. Quindi, questa che può essere una semplice cazzata, cioè, arriva un sistema di dettatura, vedete, al di là del podcast in sé, che comunque ha portato, come sempre, tutta una serie di, diciamo, di riflessioni alattere che secondo me possono essere anche interessanti, vi ho dato, spero, degli spunti anche per, diciamo così, espandere quella che è un concetto, un'idea, una semplice funzionalità che sta per arrivare in un qualcosa che magari potreste, cioè, banalmente, suggerire ad altri o aiutare qualcuno che magari non sa che questo tipo di sistema è o sarà a disposizione, perché in questo caso attualmente è solamente in versione beta, naturalmente arriverà sia in Windows 11 che ovviamente anche in Windows 12. Chiudo facendo una piccola parentesi su, ad esempio, il sistema di Apple, che sta per uscire, sapete, col sistema di Vision Pro, che è la realtà virtuale di Apple, eccetera, eccetera. la prima cosa, poi ve l'ho già detto, credo, che è fighissima di questo tipo di sistema che uno dice, vabbè, ma minchia, è un sistema da 2500 euro, sì, perfetto, però pensate quante persone sono bloccate e non possono usare mani in nulla, un sistema del genere è controllabile 100% con gli occhi, cioè voi controllate tutto un sistema operativo che vi permette a sua volta di fare una vita normale, quindi, non so, volete vedere un film, volete andare su internet, volete scrivere, volete fare, tutto e solamente con il movimento degli occhi, stando a quello che è stato dichiarato, quindi, cioè, pensate anche quando uno dice ah, esce sta cosa, che cazzata, o esce una nuova cosa, chi se ne frega, certo, a uno può piacere una cosa, a uno ne può piacere un'altra, però bisogna sempre sforzarsi di vedere da uno strumento che cosa ci può essere dietro questo strumento, poi è ovvio che se il risultato finale è una cazzata, vabbè, è una cazzata, però, quante tecnologie possono essere utili e quante cose si possono imparare da tutta una serie di sfruttamenti, di concept che poi si evolvono, alcuni precipitano in un baratro perché effettivamente non servivano a un cazzo e altri invece sono semplicemente oggetti che ispirano, bene, spero che questo video che comunque partiva da una notizia banalissima, si espansi un pochino, sia stato utile a qualcuno, come sempre, se non lo avete ancora fatto, se vorrete farlo, potete iscrivervi a questo canale perché aiuta la crescita, ragazzi, non siamo lontanissimi dei mille, come vi dico sempre, il raggiungimento dei mille utenti iscritti e soprattutto delle 3.000 ore visualizzate su questo canale, non siamo lontanissimi, però, insomma, credo ci vorrà, allora, per i mille iscritti, stando a logica, ci vorranno ancora qualche mesetto e probabilmente così anche per le 3.000 ore di persone che appunto guardano i miei contenuti, però, è una cosa che, ovviamente, cambierà alcuna un tanto, però alcune cose per il canale potrebbero migliorare, quindi, io vi chiedo questo, vi voglio ovviamente molto bene, alla prossima e ciao!